Proprio ora che dobbiamo sposarci. Ma lo sai che ieri sono uscita con uno che aveva sette tipi di tisane diversi? Teoricamente l'ho lasciato io. Cioè, diffidare proprio, uomo con tisana non scopa. Ma mi stai ascoltando? Sì, ti ascolto. Ma tranquilla che poi torna. No, stavolta non torna, è diverso. Ti vuoi concentrare su di me per favore, è importante. Se ne è andato, io sto morendo, lo capisci? Sono sette anni che sei in fin di vita, tesoro. Possiamo parlare della mia tisana adesso, per favore? Quale hai scelto? Coca e Rum, a casa mia. Non devi bere da sola a casa. No, quella sei tu, quindi non proiettare. Poi io non ero sola. Indovina chi è venuto. Are you awake? Yes. Stesso messaggio alle due del mattino. E tu eri awake. Io ero molto awake. Senti, avranno pure della frutta di merda in quel negozio. Però ti assicuro che il servizio notturno ripaga tutto. Ma non si doveva sposare? Eh sì, è sposato. Tra l'altro con una di 17 anni. Io gliel'ho detto, non sono gelosa. Però è lui che si fa le paure, le storie. Sta con un'altra. Tu lo sai, vero? No, no, non so niente. Sì, sì, tu lo sai, non me lo vuoi dire. Ho sentito come detto, ma io non sono gelosa. No, ma io era riferito a me. No, era riferito a me. No, ma io era riferito a me. Se dico ma io, ma io è riferito a me. Senti, voi siete tutti uguali. Iguali e insopportabili, veramente. Voi chi? Tu e quei egocentri in cui il narcisista è vagamente stronzo pure del tuo ex. Perché stronzo che sai? Poi hai detto ex, vedi che sei sicura che è finita. No, io ho detto ex perché tu hai detto che è finita. È normale che io lo dica. Funziona così, è il gioco delle parti. Io dico stavolta è finita e tu devi dire no, vedrai che torna. Io te l'ho detto però. E devi insistere. E perché non insisti? Perché? Ok, ricominciamo da capo allora. Cerchiamo di capire perché è finita.